Quali sono le banche oggi più rischiose al mondo? Possiamo saperlo tramite l'analisi dei CDS o Credit Default Swap che indicano la percezione del rischio di credito da parte degli investitori. Questa tabella alle mie spalle indica le 10 banche con i valori di CDS più elevati al mondo. La prima in classifica e non stupisce è Credit Suisse. Dopo il fallimento della banca è stata acquistata da UBS ma la fusione si completerà solo nel secondo semestre di quest'anno. Al secondo posto invece troviamo Deutsche Bank. In realtà Deutsche Bank è una banca solida ma il valore dei CDS è stato influenziato da quello che è successo a Credit Suisse. Infatti è cresciuto il timore che potesse rappresentare una banca in sofferenza. Vista l'importanza della banca tedesca in Europa è così salito il timore da parte degli investitori. Sai se la tua banca è solida? Lasciaci un commento.